Alle ore 15 sono stati chiusi i seggi per il referendum e i balottaggi delle amministrative. E' un dato, è già certo, i tre referendum sulla legge elettorale non sono validi. Per nessuno dei tre quesiti proposti infatti è stato raggiunto il quorum. I dati definitivi danno l'affluenza al 23% su base nazionale. Fini parla di esito prevedibile, casini di bocciatura del bipartitismo, mentre Calderoli è deciso, un'altra vittoria della Lega. In Sardegna record negativo di votanti, a Dalghiero vanno alle urne il 14,8% degli aventi diritto ed ancora peggio accade a Porto Torres con il 13,2%, 15,1% nel capoluogo cagliaritano e il 17,8% a Sassari.